Alberto che giornata è questa? Una giornata come tutte le altre, una bellissima giornata Però c'è un campo di golf in più a Chiari Sì, è vero, soprattutto c'è tanta gente, c'è un gruppo di persone capaci e con tanto entusiasmo e tanta volontà Bene, grazie Grazie, buona giornata Grazie Grazie Grazie